Marco Sportiello, come commentare questa sconfitta subita contro la Lazio, la prima di questa stagione peraltro per voi? Ma è stata una sconfitta che ci insegnerà molto sicuramente, la Lazio ha fatto un'ottima gara, è stata più forte di noi oggi, quindi merito a loro e noi ripartiamo la prima sconfitta, ce ne saranno altre sicuramente, però l'importante è comunque uscire sempre a testa alta, come abbiamo fatto anche oggi e pensiamo alla prossima, che ogni partita è sempre importante, ci sono sempre un paio o tre punti. Uscire a testa alta, pensare alla prossima, ma lo spogliatoio, i diversi giovani che avete anche in squadra, come hanno preso questo non caldo? Vabbè, è normale che comunque una sconfitta fa sempre male, però non credo che ci sia motivo per… abbiamo fatto grandi risultati, abbiamo vinto a Roma, abbiamo pareggiato con Milan, abbiamo vinto col Torino, abbiamo vinto con la Fiorentina, abbiamo pareggiato a Udine che comunque era una partita che potevamo fare nostra, io credo che la squadra c'è, l'ha dimostrato e quindi non c'è assolutamente da preoccuparsi.